Cari spettatori del Grande Fratello, l'atmosfera nella casa sta per esplodere. Anita Olivieri ha sollevato il velo su un intricato intreccio di segreti che cambieranno il corso degli eventi. Pronti a immergervi in questa avventura? Se anche voi credete che i segreti della casa vanno svelati, mettete un like e iscrivetevi per non perderne neanche uno. Nelle ultime ore, Anita si è confidata con Giuseppe Garibaldi, svelando intricati dettagli sulla di accordi tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Ecco cosa Anita ha rivelato. Ieri ho ascoltato una conversazione tra Marco e Beatrice. Ti dico solo che stanno tutti giocando. Non ti dico altro perché non ho voglia. Sono state dette cose che, basta che ragioni. L'importante è che io so, ma lo sapevo già. Uguale con lui, riferendosi a Vittorio Menozzi, è tutto un gioco per passare il tempo. Beatrice ha confessato a Marco che non ti lascia stare solo per passare il tempo, per divertirsi. Lui ha anche detto che gli dispiaceva per te. Come reagireste alle rivelazioni di Anita se foste al posto di Giuseppe? Pare che l'amatissima attrice stia tessendo un complesso gioco per passare il tempo, rivelando la sua autentica natura dietro le quinte e sconvolgendo gli equilibri nella casa del grande fratello. La verità ha bisogno del tuo supporto. Lascia un like e iscriviti per non perderla. Cosa accadrà ora tra Beatrice e Giuseppe? Le azioni di Beatrice sono parte di una strategia o di un puro divertimento? Le risposte potrebbero sorprendervi. Grazie per essere stati con noi durante questa esclusiva rivelazione.